Parte Govoni, parte Govoni, si allunga troppo la palla e Aikomu c'è, Aikomu copia Aikomu Govoni e porta in avantaggio il mercadante Palla ancora il nostro Aikomu, si porta avanti la palla, non tira non so cosa aspetta, ancora Dennis, ancora Dennis Gov, sempre lui, grandissimo, grandissimo su Dennis, ha voluto tirare, ce l'ha fatta, doppietta del nostro bomber, 25esimo Bravo Dennis, messa tra le per il Salus, 2-0 qui in questi primi 25 minuti, 27 minuti Riparte Loria nettamente in gioco, si indirizza verso l'aria, prova il tiro, Aikomu, ancora, ancora Aikomu Pallone a casa, bravo Aikomu Condedica